Il Superbonus è un'agevolazione fiscale introdotta nel 2020 con l'obiettivo di migliorare le infrastrutture, il cui target sono sia i condomini che le persone fisiche, non aventi un edificio adibito ad attività d'impresa. Dal 2024 la detrazione del Superbonus scenderà al 70% e avrà come unici beneficiari i condomini, con limitazioni per chi ha già usufruito del Superbonus o rientra in particolari condizioni. Le persone che non hanno potuto ultimare i lavori entro il 2023 e che hanno un ISEE immobiliare di valore inferiore a 15.000 euro riceveranno un ulteriore contributo. Per avere diritto al Superbonus 2024 si possono fare solo due tipi di interventi, sostituzione di impianti di climatizzazione ed isolamento termico e riduzione di rischio sismico. Grazie a tutti.